Dottor Anelli, presso lo studio di Landriano volevamo parlare con lei della figura dell'anestesista, ma quando per un dontoiatra è necessario il supporto di un anestesista? Sicuramente in un paziente particolarmente fobico o in un paziente che è particolarmente ansioso che non permette di essere trattato per quanto riguarda un trattamento dontoiatrico nella maniera corretta e in piena sicurezza. Oggi si parla tanto di sedazione cosciente, ma in che cosa si differenzia dalla classica anestesia? La metodica che prevede l'utilizzo del protossido d'azoto è una metodica che presenta una caratteristica che può essere eseguita anche dal medico dontoiatra nello stesso studio, aumentando, diminuendo la quantità di gas che permette quindi una sedazione discretamente profonda e permette quindi al dentista di poter lavorare. L'altra metodica è quella un pochino più specialistica che si avvale di un anestesista in studio che, mediante la somministrazione di farmaci per via endovenosa, gestisce quindi la sedazione e l'anestesia più profonda, quindi più generale, che permette quindi di fare dei trattamenti chirurgici sicuramente più invasivi dal punto di vista implantare. E per chiudere, dottore, chi può praticare la sedazione cosciente? La sedazione cosciente può essere praticata sia dal medico odontoiatra che dall'odontoiatra puro. La sedazione più profonda deve essere praticata solamente da un medico specialista. Grazie. Grazie. Grazie.